Benvenuti su Speedy News. Oggi vi portiamo direttamente nel cuore dell'Europarlamento, dove Roberto Vannacci ha scosso l'aula con un intervento senza mezzi termini, rivolgendosi in modo deciso a Dombrovskis e Borrell, un discorso che denuncia apertamente le contraddizioni delle attuali politiche europee, tra appelli alla pace e decisioni che portano verso la guerra. Vannacci chiede con forza un cambio di rotta, un cessate il fuoco in Ucraina e Medio Oriente, facendo appello ai valori fondanti dell'Unione Europea. Restate con noi per ascoltare ogni parola di questo intervento che sta facendo discutere. Alla fine della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, i sei paesi fondatori di cui l'Italia faceva parte disegnarono questa Unione Europea fondandola su dei principi tesi a garantirci una pace prospera e duratura. Ebbene, quella stessa pace oggi sembra sgretolarsi di fronte ai nostri occhi. Là, signor Dombrovskis, in quella direzione, a est, circa 2.400 chilometri da questo Parlamento, lei ci promette una guerra ad oltranza per cercare una vittoria che ben si è guardato dal definire. E visto che la vittoria non arriva, fa delle pressioni continue sugli Stati come l'Italia, che ha deciso giustamente di cedere le proprie armi per garantire la legittima difesa a uno Stato aggredito, ma che non vuole che queste stesse armi si trasformino in uno strumento che ci potrebbe portare al baratro della distruzione termonucleare. E allora cosa fa l'alto rappresentante Borrell? Prende un aereo e vole in Medio Oriente, chiedendo un cessato il fuoco immediato tra Israele e Gaza. Da una parte chiede la pace, senza condizioni, dall'altra ci promette guerra, missili, granate e droni. E critica e condanna il Presidente Orban, unico rappresentante europeo che cerca una soluzione negoziale di questo conflitto, ma poi in questi giorni plaude al Cancelliere Scholz, che giustamente vuole che la Russia partecipi alla prossima conferenza di pace. È l'ora di finirla, signor Dombrowski, con questa politica di due pesi e due misure, anche perché questi due anni e mezzo di guerra non hanno portato ad alcun risultato tangibile, ma pesano in maniera terrificante sulle spalle dell'Ucraina e creano delle nefande conseguenze economiche e sociali che tutti i cittadini europei sono tenuti a pagare. Tacciano i cannoni, signor Dombrowski, in Medio Oriente come in Ucraina. E facciamo lavorare chi vuole veramente la pace e chi vuole salvare l'Unione europea e i valori su cui si fonda, che lei probabilmente e il commissario Borrell hanno dimenticato. Grazie. 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 Grazie.